Versate nella planetaria 120 grammi di acqua, mezza bustina di lievito secco e 3 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di latte, mescolate per fare sciogliere il lievito, aggiungiamo l'uovo, versate la farina e cominciate a lavorare, 250 grammi di farina, aggiungete il gancio e lavorate per 15 minuti, versate altri 100 grammi di farina, aggiungete il sale e 40 grammi di strutto a fiocchetti, versate in una terrina unta d'olio, lasciate lievitare in modalità lievitazione, fino al proprio raddoppio, dopo aver lievitato sgonfiate aiutandovi con la farina così, l'impasto è morbidissimo, dividete la pasta in 9 parti, prendete la pasta schiacciate leggermente e stendete con il mattarello così, quindi arrotolate e fate così, chiudete con la pellicola e lasciate lievitare fino al proprio raddoppio, spennellate la superficie con un tuorlo sbattuto con due cucchiai di acqua, infornate a 170 gradi statico per 20 minuti circa, trovare una Rep Busha, quippone renewe, si pote attivamenteflow e 3 lati statico per 20 minuti considerate